Ben trovati al meteo. La perturbazione alimentata da aria artica condizionerà ancora il tempo di questo sabato 27 novembre con clima progressivamente più freddo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia una situazione instabile, cielo in prevalenza nuvoloso ma non si escludono anche maggiori schiarite soleggiate. Precipitazioni sparse, fenomeni soprattutto nella seconda parte della giornata ma in genere di debole intensità. Limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 700 millimetri sulle prealpi e a fondo valle sulle dolomiti. Temperature come detto via via in calo, minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra i 7 e i 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il contesto sarà un po' diverso, con tempo molto variabile un po' per tutto l'arco della giornata e con piogge piuttosto diffuse. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove avremo qualche piovasco alternato a momenti più asciutti. Neve oltre i 600-800 metri. Temperature minime intorno a 0-2 gradi, massime infine sui 9-10 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.